Per quanto concerne i risultati dell'attività operativa che è stata effettuata nella globalità dalla compagnia Carabinieri di Pesaro che ho l'onore di comandare, posso dirvi che nell'arco dell'anno solare gennaio-dicembre 2017 la compagnia ha effettuato 127 arresti, ha deferito in stato di libertà 783 soggetti e ha svolto pattuglie per lustrazioni per il controllo essenziale del territorio circa 5.000 pattuglie in un anno, pattuglie che quindi hanno visto impiegati circa 10.000 militari per il controllo del territorio che per noi è fondamentale perché ci garantisce sia un momento di vicinanza anche di saluto con il cittadino che viene fermato casualmente al posto di controllo o al posto di blocco ma ci serve anche moltissimo perché da questi controlli sul territorio riusciamo a recepire quelli che sono i soggetti di interesse operativo che invece devono essere controllati, seguiti e monitorati nei loro passaggi sul territorio. In particolare nel 2017 tramite queste pattuglie per lustrazioni siamo riusciti a identificare circa 27.000 persone e 20.000 mezzi utilizzati sulla circolazione su strada. Per quanto concerne invece l'anno 2018 dal 1 gennaio al 15 febbraio dell'anno in corso sono stati effettuati al momento sempre dalla compagnia di Pesaro globalmente intesa. 15 arresti sono state deferite in stato di libertà 35 persone, abbiamo svolto 500 pattuglie e per lustrazioni con circa 1.000 militari che ci ha consentito di identificare quasi 3.000 persone e controllare circa 1.500 mezzi su strada sempre per incrementare quindi il controllo del territorio fondamentale per cercare di garantire un senso anche di sicurezza e di presenza sul territorio da parte dell'arma dei carabinieri. Quindi in ogni momento invito anche i cittadini se hanno necessità di qualunque tipo anche chiedere un'indicazione, chiedere un consiglio, invito i cittadini a fermare con fiducia ad avvicinarsi con fiducia alle pattuglie che vedono ferme per strada perché noi siamo là apposta per essere a disposizione dei cittadini e delle persone che possono avere anche un bisogno immediato.